Ciao a tutti, come ben sapete il periodo è un po' complesso, i cinema sono chiusi e quindi niente pre-post recensioni in questo periodo. Però proprio per cercare di insieme, di attraversare questo momento, ho pensato di fare un nuovo format. Delle brevissime recensioni sui tantissimi film che in questo periodo andrò a vedere. Film su qualsiasi piattaforma, qualsiasi dispositivo, DVD, Netflix, quant'altro. Potrò vedere film di quest'anno o film anche degli anni 40. Non ci sarà un criterio, solo quello che mi va di vedere. E qui farò delle micro recensioni di tre minuti di quello che ho visto il giorno prima. Perciò, sigla! Bene, il timer è pronto, via. Allora, ieri sera, anche se non sono un amante del cinema italiano, ho visto Non ci resta che il crimine, un film italiano, appunto, una commedia del 2019. Il film un po' cerca di essere sulla falsariga di Non ci resta che piangere, come dice appunto il titolo. Ci sono i tre protagonisti che sono interpretati da Alessandro Gasman, Marco Giallini e Gianmarco Tognanzi, che sono amici fin dall'infanzia e cercano di mettere su, diciamo, un improbabile tour per Roma nei luoghi della Banda della Magliana. E così, di colpo, a un certo punto si ritrovano catapultati nel 1982, proprio nel periodo, nei periodi cruciali della Banda della Magliana. Allora, come dicevo, il titolo cerca, il film cerca già dal titolo, di riprendere un po' l'idea del film, del grandissimo film con Benigni e Truisi, Non ci resta che piangere. E purtroppo devo dire che l'idea di riprendere quel film, non ci resta che piangere, parte dal titolo e si ferma al titolo, non c'è nient'altro. Proprio non ha nulla a che vedere con il film che tutti conosciamo, che tutti ricordiamo per momosegno, un fiorino, e potete continuare voi con le citazioni. Già dalla trama, diciamo, non c'è molto da dire, cioè la trama è un susseguirsi di eventi abbastanza scollegati fra di loro e senza, a volte anche un senso logico, a un certo punto vengono liberati, non si sa perché, per un ministro, oppure questo si trova, Marco Giallini si trova in tasca a 500.000 lire dell'epoca, non si sa perché l'ha comprata su ebay, e ce l'aveva presso. Quindi già la trama dice tutto. Diciamo, è una commedia, ma non è una commedia delle più riuscite, secondo me. Gli attori, anche loro, nelle loro interpretazioni, mi sembravano molto forzati nella recitazione. Quindi, purtroppo, il film non è fra i più riusciti. Poi, secondo me, cercava di sfruttare un po' questo revival dell'anno 80 che ultimamente andava, ma sì, tira in mezzo i campionati mondiali dell'82, le partite con l'Argentina, con il Brasile, la finale con la Germania del campionato mondiale, ma, diciamo, è poca roba, è poca roba. Quindi, il film non è un gran che. Lo consiglio agli amanti della commedia italiana e un po' a quelli... Eh, finito il tempo. Lo consiglio, appunto, a chi ama la commedia italiana, senza grandi pretese, per passare una serata così, diciamo, con due ore leggerissime. Ciao e ci vediamo alla prossima recensione.